Poi, è quest'ora che ci fanno qui? Questi ci fanno fermare. Caramba! Piccola sosta da osta, al volo! Bella osta, sì. Ora sono proprio curiosa di vedere come può velare la valle. Buongiorno. Buongiorno. Patente, libretto? C'è un bambino che dorme? No. Un abbassamento di voce? No, no. Piacere, mi presento Bernardo Cannistraci, tra l'altro centesimo corso Benevento, siamo colleghi. Dunque, scherzone al babbo che è in fondo, che tanto bene, forello, è onestà. Gli abbiamo detto che si va a Parigi, in realtà non ci si può portare anche onestà bene. Allora si fa tutti dei giri, giro, 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 e la proprietà mia di questo maneggio è proprio mio, è di proprietà. E' proprio per questo che ci hanno chiamato, un comportamento in effetti un po' anomalo, non pensate? Sì, però non facciamo niente di male. Nulla? Eh, nulla proprio, no. Anche perché la proprietà del maneggio, come le ha detto, è proprio sua, mio fratello. E anche il camper l'abbiamo regolarmente noleggiato. È dunque circonvenzione di incapace? No! Pare parecchio Parigi Pare parecchio Parigi